Sì, anche quest'anno abbiamo accolto favorevolmente il progetto proposto da McDonald's Tutti a raccolta che appunto è un'iniziativa volta all'educazione ambientale e soprattutto al tema dell'abbandono ai rifiuti che costantemente ricade sul nostro territorio. Abbiamo fatto secondo me anche una bella scelta quest'anno di andare appunto all'Oasi di Mandela che rappresenta un valore naturalistico importante per il nostro comune e anche lì purtroppo l'abbandono ai rifiuti è una causa molto importante che ci crea molti problemi. Questo appunto è un connubio importante perché riuscire a valorizzare un patrimonio naturalistico e insieme educare soprattutto i ragazzi a gestirlo e ad avere una fruizione corretta penso per una comunità come la nostra sia di notevole spessore. Voglio ringraziare SETO Scana per l'organizzazione appunto dell'evento e nella logistica ci ha aiutato e soprattutto le associazioni che parteciperanno come Arcadia Ollus, le associazioni sportive che hanno adorito in massa a questo evento e di questo ne siamo appunto molto contenti.